ciao a tutte e ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video una location così un po improvvisata perché vi ho accennato su instagram insomma chi mi segue su instagram avrà già sentito che ho la ring light fuori uso perché manu me l'ha smontata perché stiamo facendo dei lavori insomma un po in casa in cameretta e quindi ho dovuto crearmi questo angolino qui in camera da letto allora oggi video dedicato ai preferiti del periodo ho fatto un pur purì perché ho assemblato insieme prodotti beauty make up ma soprattutto profumi quindi rimanete fino alla fine vedete il video fino alla fine vi prometto che non sarà lunghissimo perché ho profumi molto molto interessanti da proporvi allora partiamo subito con i capelli mi fate sempre tanti complimenti mi chiedete sempre che prodotti utilizzo e ho fatto anche una instagram tv e in cui vi faccio vedere proprio come tengo i capelli i prodotti che uso appunto per lo styling e questo è la mia salvezza ogni qualvolta vado al dm ne prendo un po di confezioni proprio per fare scorta e praticamente questo è una una crema professionale modellante per i capelli ricci mi trovo benissimo perché è una crema non troppo densa e che non appesantisce i capelli non li unge non li sporca e molto profumata e mi fa questo riccio bello definito morbido il capello lucido ed è un prodotto super low cost che trovate al dm del brand balea poi tempo fa da euro spin ma euro spin poi a rotazione ripropone diciamo questi prodotti ho preso questa crema di questo brand che si chiama oleos ed è una crema corpo all'olio di mandorla sensazionale non mi viene altro termine e contiene olio di mandorla 100 per cento biologico e adatta a tutti i tipi di pelle ed è un prodotto fantastico una profumazione paradisiaca proprio di latte di mandorla proprio si si sente tantissimo l'odore della mandorla ma soprattutto mi piace la consistenza della crema né troppo densa né troppo liquida si assorbe facilmente rende la pelle totalmente idratata ed elastica un prodotto che costava tipo due euro e qualcosa veramente molto low cost e una minima spesa per una resa eccezionale non so se ancora riuscite a trovarla c'era anche lo shampoo se non sbaglio il bagno schiuma il sapone liquido per le mani una linea completa ma euro spin ripeto poi a rotazione ripropone sempre questi prodotti poi per quanto riguarda il viso sto amando tantissimo questa acqua micellare che io in realtà non utilizzo per struccarmi vabbè intanto vi dico di cosa si tratta del marchio now bay la linea detox questa è un acqua micellare con all'interno aloe vera e tè verde e limone ed è un acqua micellare illuminante e al mattino prima di procedere al lavaggio del viso insomma la detersione la uso con un dischetto di cotone su tutto il viso per togliere eventuali impurità appunto della sera precedente eventuali residui di trucco trattamenti che utilizzo la notte e ha un effetto bello rinvigorente illuminante e pulisce perfettamente il viso questo brand lo trovate sia online ma soprattutto fisicamente da tigota poi ho avuto un po di problemi per quanto riguarda le labbra in quest'ultimo periodo delle labbra particolarmente screpolate devo dire che ora ho risolto veramente notevolmente la situazione utilizzando due prodotti in particolare alternandoli allora il primo è questo e io di questo prodotto vi ho già parlato veramente tantissime volte di sol de janeiro il brasilian kiss questo appunto prodotto questo stick super idratante con carité cocco ha una profumazione pazzesca ed è un prodotto super super idratante e nutriente perfetto per le labbra ma perfetto anche per esempio per le zone secche qui intorno intorno al naso è molto consistente molto corposo che va quindi a dare nutrimento ed è veramente stratosferico questo prodotto ma soprattutto tra l'altro io avevo due confezioni di questo prodotto qui ma la mia amica sonia che saluto sempre ciao tesoro mio ti voglio bene e mi ha detto dovresti utilizzare lo stick di elisabeth tarden e adesso non mi ricordo esattamente il nome il 24 hour una cosa del genere comunque ve lo scrivo giù nell'info box allora questo è uno stick pazzesco guardate un misto di oli nutrienti che hanno un effetto veramente decisivo sulle labbra nel senso che se avete le labbra particolarmente scrivolate le mie proprio erano a sangue stavolta e questo prodotto è stato una manna dal cielo perché mi ha levigato totalmente le labbra ha fatto sparire tutte le pellicine ha richiuso le varie ferite e devo dire mi sono trovata benissimo vi scrivo giù nell'info box poi rimpolpa anche le labbra un bellissimo effetto turgore ed è strepitoso veramente strepitoso come prodotto efficace funziona e quindi ve lo stra stra consiglio vi scrivo giù nell'info box il nome del prodotto perché nel frattempo io ho terminato lo stick di connettivina che utilizzavo appunto per le labbra e anche quello veramente eccellente ora innanzitutto ho ripreso in mano lei sapete che non sto acquistando make up in questo ultimo periodo quindi cerco di utilizzare tutti i prodotti che io ho nel cassetto ho ripreso in mano lei ed è la palette di anastasia beverly hills amresi anche il make up di oggi realizzato con lei questa palette veramente strepitosa ci sono tanti colori sia divertenti sia molto estivi allegri vibranti che colori un po più sobri per poter realizzare dei make up da giorno vedete tranquillissimi anche se resi un pochino più accattivanti magari con qualche sbrilluccichino in più le palette di anastasia beverly hills ve le consiglio praticamente tutte poiché hanno una texture gli ombretti molto sottile sfumabilissima durano tantissimo sulla palpebra anche se non utilizzate un primer quindi assolutamente straconsigliate e poi parliamo di rossetti in fissa con i rossetti rossi questo che ho su in particolare questa meraviglia di naioleari guardate quanto è carino il insomma il packaging è veramente delizioso il rossetto in questione è un rossetto dal finish satinato guardate che colore pazzesco il colore in questione si chiama rosso melograno e non mi ricordo esattamente la linea di questi rossetti cioè il nome mi pare che si chiami tipo icon lipstick qualcosa del genere ma ve lo scrivo sotto non ho gli occhiali quindi non riesco a leggere bene ma il colore è strepitoso è un colore super vibrante acceso una texture cremosissima che non va assolutamente a seccare le labbra molto intenso in colore il colore iper pigmentato direi e basta tamponare con una velina e l'effetto è quasi di un semi matt confortevolissimo che ha anche un'ottima durata veramente eccezionale anche se andate a mangiare devo dire che il rossetto si mantiene molto bene essendo però che ha una texture cremosa consiglio di contornare le labbra con una matita per evitare l'effetto sbavatura poi super felice e super contenta di avere acquistato questi rossetti di faberlic e la linea si chiama new generation liquid lipstick in particolare questo colore pazzesco è un rosso bellissimo del quale vi metto giù nell'info box appunto sia il nome che il numero del colore ma guardate la meraviglia di questo rossetto è leggermente un po più scuretto di questo rosso geraneo di naio leari è un rossetto strepitoso innanzitutto ha un applicatore che è fantastico perché vi permette di applicare il rossetto con una precisione millimetrica anche senza utilizzare una matita per contornare le labbra una texture quasi come una mousse molto delicata facile da stendere colore pieno subito non appena lo applicate si asciuga senza seccare le labbra e hanno una durata incredibile questo è appunto il rossetto di faberlic pazzesco se poi invece vogliamo andare più su un discorso nude ovviamente vi sto proponendo rossetti che sono compatibili con l'utilizzo della mascherina ecco in maniera tale da non combinarci insomma dei mascheroni sulle labbra e vi stavo dicendo quindi per rimanere in ambito nude questo rossetto di bella oggi matt effect di questo forse ve ne parlai in un precedente video questo è il numero 03 e non riesco a leggere il nome ma ve lo metto giù nell'info box allora questo è l'applicatore e questo rossetto è a dir poco meraviglioso è un color cappuccino un nude ecco vediamo forse così riusciamo un nude rosato con un pizzico una punta di arancio bellissimo molto molto elegante sobrio da giorno ed è un prodotto che anch'esso insomma si asciuga perfettamente sulle labbra senza tirare e ha anche un'ottima durata ed è un prodotto low cost adesso passerei ai profumi argomento interessantissimo allora questi due sono due profumi identici cambia semplicemente la boccetta e sto amando follemente questo profumo io sto utilizzando questo in questo momento ma mi sta quasi per terminare e sto parlando del cotton kiss di zara che vorrei farvi vedere però in questa boccetta perché ne vale la pena in questo colore rosa bellissimo bellissimo allora questo è un profumo assolutamente fresco frizzante molto carino perfetto per la stagione primaverile per l'estate è un profumo che si presta benissimo per le giornate assolate nota di testa abbiamo la pera questo è un floreale fruttato questa pera quasi granita questa pera zuccherina io spero ragazze di non avere per tutta la durata del video il rossetto sui denti perché col rossetto rosso è sempre una tragedia comunque se dovesse essere così scusatemi allora vi sto dicendo abbiamo note di testa di pera poi abbiamo i semi di ambretta e l'iris quindi un fruttato che ha questo esordio molto spumeggiante fresco che predispone bene ad affrontare la giornata e poi si adagia si assesta su questo fondo polveroso quasi talcato proprio per la presenza dell'iris è un profumo molto romantico iper femminile ma allo stesso tempo gioioso per una donna molto dinamica attiva, intraprendente un profumo delizioso che mi sento di consigliarvi che non ha una grandissima durata però essendo un profumo dedicato più alla stagione proprio della leggerezza della rinascita diciamo che la sua persistenza si adatta perfettamente al periodo e quindi un profumo che va con gioia e rispruzzato durante l'arco della giornata diciamo che parliamo di una persistenza di tre ore all'incirca poi sono riuscita a trovare finalmente il profumo felce azzurra l'eau de toilette che ho acquistato in una confezione molto carina al DM ma è un profumo che trovate tranquillamente anche su Amazon e questo è un'eau de toilette muschiata meravigliosa l'ho acquistato perché è un profumo che mi ricorda tantissimo mia nonna mi ricorda l'infanzia è un profumo molto legato ai ricordi un profumo legato molto all'infanzia al ricordo dell'infanzia di me che ero ancora bambina di una me sognante ma soprattutto l'ho acquistato perché mi ricorda tantissimo mia nonna è un profumo che ripropone fedelmente il profumo proprio del bagnoschiuma felce azzurra questa profumazione così muschiata aromatica talcata che ricorda appunto una bella doccia appena fatta ed è un profumo perfetto per la primavera un profumo perfetto per andare a dormire se amate come me profumarvi anche per andare a dormire non ha una durata pazzesca ma voglio dire sono così affettivamente legata a questa profumazione che insomma non vado a guardare o a contare le ore in cui permane sulla mia pelle altro profumo che vorrei strastra consigliarvi che sono riuscita a trovare la sirene blu perché questa fragranza della linea green tea di elisabeth non è facilissima non è facilissima da trovare questa è la versione alla lavanda infatti mi sono molto sorpresa io ne ho diversi ho quello al tè verde classico quello al bambù ho quello al fico ma non avevo ancora visto questa alla lavanda adorabile è un profumo aromatico molto carino trovo che sia unisex perfetto per la stagione che sta per arrivare per la primavera per l'estate è una bella botta di energia di frizzantezza è un profumo che ha questo esordio molto agrumato con note di limone di amalfi di mandarino ma poi abbiamo all'interno anche la camomilla la lavanda il muschio il timo la menta è un profumo molto aromatico fortemente aromatico ma energizzante che trasmette proprio energia ma soprattutto questa nota di lavanda lo rende un profumo molto pulito che sa di pulito che sa proprio di panni stesi al sole della freschezza proprio del bucato e della profumazione del bucato steso al sole davvero molto molto carino mi sento di consigliarvelo tra l'altro se non lo trovate fisicamente è un profumo che potete tranquillamente reperire su amazon ultimo profumo di cui vi voglio parlare non per importanza perché è un profumo fantastico sto parlando di passum di profumi di pantelleria allora questo è un brand di nicchia scusate ma mi si sta scaricando anche la batteria bene questo è un brand di nicchia che io sono riuscita a trovare grazie a una ragazza alla Giulia che me l'ha consigliato e la ringrazio sempre tantissimo nell'erboristeria isola verde però è un profumo che si può trovare tranquillamente nelle profumerie insomma di nicchia che rivendono profumi di pantelleria ma ovviamente anche online ma online ovviamente bisognerebbe fare tentare un acquisto al buio questo è uno dei parfum profumi di pantelleria è un brand italiano e il packaging e la boccetta sono veramente di un'eleganza incredibile questa boccetta è strepitosa bellissima allora l'azienda nasce con il concetto di mettere all'interno delle proprie boccette delle proprie creazioni di rievocare con queste creazioni i profumi i sapori gli odori di una isola meravigliosa una perla del Mediterraneo che è appunto pantelleria ovviamente io da siciliana ho sentito tutti questi odori tutti questi profumi questi ricordi proprio della mia terra che sono legati proprio alla vicinanza con il mare con una certa vegetazione che è tipica della macchia mediterranea Passum in realtà è il nome latino che i romani davano ad un vino liquoroso molto piacevole godibile che è il passito il passito di pantelleria che si accompagna di solito ai dolci in questo profumo io non sento questa nota liquorosa ma sento questa dedica verso un prodotto che è un prodotto ormai conosciuto in tutto il mondo ed è un profumo fortemente aromatico è un profumo in cui c'è una nota che prevale su tutto che è la mirra la mirra in combinazione con il paciuli e con il muschio e anche con la presenza dell'ambra quindi è un profumo molto resinoso molto aromatico abbiamo anche una nota di incenso e una nota particolarissima che si sposa benissimo con queste note ambrate con queste note di incenso e di mirra che è l'iris fiorentino quindi è un profumo che non ha un paciuli troppo pungente non ha una mirra troppo presente ma è un profumo molto delicato in cui l'iris e il muschio avvolgono tutto in un caldo e delicatissimo e talcatissimo a braccio perché è un profumo che si parte con questa mirra aromatica intensa e poi sento anche il paciuli così vibrante così acceso però poi c'è questo iris io mi sono fortemente innamorata di questo profumo perché questo iris fiorentino è talmente delicato talmente sobrio talmente talcato che realizza un equilibrio molto molto gradevole viene indicato come profumo unisex sicuramente lo è ma io lo sento anche tanto femminile tanto sinuoso tanto talcato meraviglioso me ne sono follemente innamorata di questo profumo tra l'altro l'ho acquistato ad un prezzo incredibile perché c'era lo sconto del 30% e quindi veramente una fiaba un profumo favoloso delicatissimo meraviglioso non è il classico profumo da scia ve lo dico subito è un profumo molto intimo è un profumo che c'è presente molto elegante ma che ecco non è non pervade non è ammorbante assolutamente delicata come profumazione dunque questi erano tutti i miei prodotti preferiti del periodo insomma direi del mese di febbraio spero che il video vi sia piaciuto vi ringrazio come sempre vi mando tanti tanti baci se vi va ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao